ci credo ci riesco una nuova grande avventura che organizzo in collaborazione con life strategies un one day seminar un seminario full immersion di un solo giorno in cui ti darò un po il succo di quello che è il percorso del life coaching e del counseling ad approccio immaginale nonché della pratica sciamanica che insegno da molti anni presso l'immagina l'accademy questo percorso ha l'obiettivo di portarti all'autorealizzazione e alla felicità eudaimonia chiamavano gli antichi la felicità eudaimonia significa felicità ma significa anche la realizzazione del proprio daimon della missione per la quale l'anima è venuta a questo fine ci sono degli ostacoli che stanno nei nostri condizionamenti condizionamenti che abbiamo ricevuto dalla famiglia che riceviamo continuamente dalle persone che ci stanno intorno dai media dal sistema dalla cultura liberarci dai condizionamenti dalle paure dagli attaccamenti è fondamentale per riuscire a scoprire ciò che dobbiamo fare e farlo in modo impeccabile ecco che in questa giornata ti darò le chiavi che la psicologia immaginale archetipica e l'esperienza sciamanica mettono a disposizione per rischiare finalmente il 2023 è l'anno in cui bisogna essere capaci di rischiare c'è un grande amico uno grandissimo della felicità ed è l'incapacità di uscire dalla zona di confort vedremo cosa c'è fuori e ti assicuro che una volta che vedi cosa c'è fuori non torni più dentro diventi capace di rischiare per fare ciò che hai sempre voluto fare e non l'hai ancora fatto dunque ti aspetto in questa nuova grande avventura con Life Strategies Grazie 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 Grazie